Non hanno avuto paura nemmeno di chiamarla Fiera della Diversità, perché le associazioni che hanno organizzato a Conversano, diverso da chi, normale perché, appunto la Fiera della Diversità, non hanno paura di chiamare la disabilità col suo nome e di metterla in mostra, pur di far saltare i canoni che il mondo moderno utilizza per classificare specie e sottospecie. Ci siamo chiesti, ma in natura la diversità, ma soprattutto la normalità, è contemplata? E in realtà abbiamo visto che non è così. Ah, perché in natura nessuno si fa problemi se lo squalo è cieco e a nessuno gli va a dire al tonno fatti mangiare che quello è peccato, giusto? Basta col pietismo della disabilità, basta col metterli sempre in una luce compassionevole, basta, è gente come noi, solo che non abbiamo il coraggio di andare a chiedere che hai e ci sembrerebbero molto più normali di come sono, di come appaiono. Spazio quindi ai giochi riservati ai disabili, alla musica del disabile J, il DJ con la tetraparesi, agli spettacoli, alla lettura pubblica dei ciechi, alla mangiata cecata, da un locale all'altro bendati. Antonio, tu la benda non te la puoi togliere? No, infatti. Com'è questo tipo di esperienza? Siamo all'inizio, secondo me, di un'esperienza che fa la storia, perché la mangiata cecata è qualcosa che va oltre la cena al buio, perché fai capire i cosiddetti vedenti come si sta con la benda agli occhi per sempre.